Ecco un incontro con Fidel Castro con le due mani che abbracciano le due mani, qui a Cuba si usa salutare con le due mani tese, ci sono dei gesti di cordialità, ecco vedete il nuncio apostolico Monsignor Stella e dall'altro lato non lo vediamo ma forse c'è Don Salislao che è il segretario del Papa, il Papa è seguito, si è visto bene. Alla prossima l'Arancio, il segretario di Stato Angelo Sodano, ecco vediamo che succede adesso, noi non lo sappiamo, ecco abbiamo sentito degli onori militari, c'è la guardia sugli attenti anche all'interno dei saloni del Palazzo della Rivoluzione e il Papa si accompagna con il bastone che poi però lascia abbastanza volentieri anche per lunghi momenti quando deve parlare o anche quando deve salutare degli ospiti. C'è probabilmente la presentazione, il signore che vedete sulla destra del teleschermo è il capo del cerimoniale cubano, è prevista anche la presentazione di alcune autorità e di altri familiari. Alle spalle del Papa c'è il cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato e poi questo sacerdote con la fascia viola alla destra del teleschermo è Monsignor Stanislao che è segretario di Giovanni Paolo II fin dai tempi di Cuba. Grazie a tutti.